Buongiorno carissimi e bentrovati in questo sabato della quarta settimana del nostro tempo ordinario. La diurgia della parola di oggi che ci viene donata è tratta dalla prima lettura dal primo libro d'ere, siamo a capitolo terzo del versetto quarto al versetto tredicesimo e qui abbiamo Salomone che va a Gavaon per offrirvi dei sacrifici. Davanti alla presenza del Signore fa una preghiera e dice tu Dio ti sei degnato di metterlo su questo trono dopo il mio padre Davide e me, ma io sono un ragazzo, non so come regolarmi. E allora che cosa chiede? Qualcosa di bello. Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Salomone chiede il dono del vicernimento e Dio, siccome ha visto che questo ragazzo non ha chiesto chissà quali sparsi, quali onori eccetera eccetera, ha chiesto il discernimento per giudicare, ecco faccio secondo le tue parole, dice Dio. Addirittura ti concedo anche quando non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessun altro fra i re, per tutta la tua vita. Ecco allora la bellezza di saper chiedere, di mettersi alla presenza del Signore, perché è da Lui che noi riceviamo parole di vita eterna. Infatti il versetto del Vangelo dice le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore e io le conosco ed esse mi seguono. Come punto di riferimento siamo chiamati ad avere il Signore, la sua parola di salvezza. Ecco perché gli apostoli di ritorno dalla missione Gesù li invita a stare con lui, a riposarsi un pochettino. Il riposo, carissimi, è qualcosa di importante nella vita perché il corpo ha bisogno del suo riposo. Certe volte se non glielo diamo se lo prende da solo perché alla fine crolliamo. Però è vero che c'è anche un riposo dello spirito. Potremmo peccare un po' di presunzione nel fare tutto quanto noi, ci sentiamo indispensabili, ci sentiamo onnipotenti, quindi se non lo facciamo noi chi lo può fare? Io sono soltanto capace di fare queste cose e quindi la presunzione è un peccato che si annida dentro di noi. E allora quel riposo dello spirito che prevede anche la preghiera, il raccoglimento, di mettersi davanti al Signore e provare quel tempo durante la giornata per mettersi in preghiera e chiedere il dono dello Spirito Santo per un vero discernimento nelle cose da fare della vita. Ecco perché Gesù chiede agli apostoli di venire in disparte con lui, quindi di ritirarsi un po' dalla scena del fare, ma pensare un po' di più all'essere. E oggi, facendo memoria anche di Sant'Agata, una ragazza nata a Catania che desidera consacrarsi al Signore, il Vescovo ha accetto questo suo proposito mettendole addosso un mantello rosso, ma ahimè il proconsole di quel tempo si invaghi di lei. Non potendola avere, cosa ha fatto? L'ha denunciata come cristiana e pertanto Agata fu perseguitata in vari modi. Addirittura le furono strappate con delle tenaglie e i seni, una visione che poi ebbe fu anche guarita, poi fu messa sui carboni, doveva essere bruciata, ma un terremoto ha rimandato l'esecuzione e alla fine fu messa in prigione, dopo un po' di ore è morta. Bene, Agata è una donna coraggiosa perché ha saputo scegliere la parte migliore, ha desiderato dare il suo cuore totalmente a Dio, non voleva dividerlo con nessun altro e per questo, per questa sua fedeltà continua, anche se è stata torturata e perseguitata, noi oggi la contempliamo nella gloria del cielo, è un aiuto per noi a rendere la nostra vita sempre più coraggiosa nei valori in cui crediamo. Bene, vi auguro allora di vivere così una buona, una santa giornata, per vivere nel discernimento c'è bisogno anche di una intimità con il Signore. Un augurio anche di buon aromastico a tutti coloro che portano il nome Agata e i suoi composti. Ci vediamo domani per il nostro appuntamento, buona e santa giornata a ciascuno di voi.